Sicuramente la strategia Living è al centro della strategia del gruppo in Italia. Per noi Living significa case per studenti, case per famiglie in affitto e prossimamente case per anziani. Questa sicuramente è stata la prima operazione su cui ci siamo concentrati e che è concreta. Ci sono 600 posti letti ed è veramente al centro delle linee guida del gruppo per il prossimo sviluppo in Italia. Partendo da Milano, ma ne abbiamo delle prossime in apertura sempre qui su Milano, in Via Ripamonti, al Politecnico di Milano in zona Bovisa, in Via Durando, a Sesso San Giovanni, al nostro progetto di Milano Sesso dove ci sarà la nuova Università del Sarraffele Vita, ma anche a Firenze dove abbiamo la manifattura tabacchi e noi vorremmo importare questo modello di sviluppo anche nella città di Roma che sicuramente presenta un'offerta di studenti, un'offerta universitaria molto forte. Noi siamo all'alba di una correzione, recessione, aggiustamento, questo non glielo so dire, ma sicuramente sono momenti difficili. Il mercato immobiliare oggi è molto più sano di quello di prima, c'è molto più equity nel sistema, c'è molto più attenzione al prodotto. Chi ha i muscoli giusti e chi ha una visione di lungo termine passerà forse ancora più forte questo periodo, però davanti a noi ci sono 12-18 mesi molto complicati.